buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi faremo la video recensione dell'alladino 2new l'alladino 2new è la versione nuova dell'alladino in argentina questo telefono uscì con il nome di alladino black di questo telefono venne fatta anche una variante una variante appunto che si chiamava alladino vision e al posto di avere la base aveva un televisorino che si metteva così a caricare il telefono che permetteva di proiettare le immagini e le nostre immagini preferite adesso intanto io direi di portare di mettere da parte un attimo il telefono e anche questo e di soffermarci sulla base la base della base dell'alladino 2new è molto diversa rispetto all'alladino 2 normale intanto le luci ora io ve lo dico accesa le luci sono gialla e rossa quindi pure 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 in questa in questa base il comportamento è identico e qui ragazzi faccio una rettifica non è probabilmente vero che le bassi urmet lampeggino con questa luce di fabbrica ho scoperto che il vecchio proprietario ha lasciato un messaggio in segreteria non so che sia successo e visto che il servizio memodel non è più attivo e io non posso ovviamente non anche se vestivo tu non l'avrei ascoltato ma comunque non posso toglierlo e quindi sono impossibilitato a farlo smettere di lampeggiare perché questa quando l'ha accesa non ha lampeggiato il software della base è uguale quando si accende fa gli stessi suoni di quella adesso qua abbiamo per esempio la spia delle chiamate perse quelle delle due cosine nere la spia delle chiamate perse e la spia dei messaggi e che sono diciamo queste icone qua si accendono di giallo queste invece non sono ad accendersi i propri simboli ma delle luci accanto ai simboli poi il tasto paging che l'ha quella forma adesso è più un tasto statico una barra e poi vabbè abbiamo i vari i vari i vari led di stato adesso una cosa che può trarre un inganno il carica batterie il carica batterie è questo qua non è e io veramente pensavo non pensavo sta cosa comunque vabbè il carica batterie non è uguale infatti quando per esempio questo è un aladino 2 normale di master quando io lo faccio entrare in questa base qua si entra e entra entra però è molto instabile mentre invece ovviamente il suo il suo cordless sta perfettamente ovviamente adesso se si prova a mettere una un aladino 2 new in una base di un aladino 2 normale questo non ci entra fa finta di entrarci ma non ci entra quindi è inutile che provate perché distruggerete tutto allora una cosa che dobbiamo dire intanto è che questo aladino qua oltre ad essere appunto sotto un altro stile è un'esclusiva di urmet quindi non c'è la versione di master come nell'aladino 2 normale ma è un'esclusiva di urmet con le melodie urmet e col software urmet in questo caso siamo nella versione software urmet 2.09 e siamo anche in una fase dove telecom stava iniziando ad ammodernare a modernizzare i suoi software in che senso modernizzare che adesso l'aladino non va più di pari passo con i primi videotelefoni perché quando si parla di aladino bisogna sempre tenere in considerazione i videotelefoni e viceversa quando si parla di videotelefoni bisogna sempre tenere in considerazione l'aladino perché sono delle generazioni che vanno di pari passo questi telefoni qua hanno ancora le grafiche dei primi videotelefoni perché appunto erano quelli che venivano commercializzati questo qua invece non dico che viene commercializzato insieme al sirio by alice perché non è vero però comunque già comincia a essere una previsione di quello che sarà poi il sirio by alice le grafiche sono tutte rinnovate abbiamo messaggi, liste chiamate, servizi telecom italia, imposta portatile, imposta base, orloggio e affiliazione non abbiamo i giochi perché questo telefono è basato sulla logica dell'aladino 2 quindi sì qualora lo state chiedendo non si può cambiare neanche lo sfondo peccato perché volevo, pensavo di trovarci gli sfondi del sirio by alice però non si possono cambiare l'unica cosa che ti fa fare come nell'aladino 2 è cambiare il colore del display blu verde rosso adesso l'aladino 2 new intanto mi piace molto come forma perché mi ricorda i cellulari philips non so perché però comunque è un telefono che è abbastanza versatile il software è fatto bene comunque non ha problemi diciamo di stabilità la carica la tiene pure bene io queste batterie gliel'ho messe un'ora fa sono batterie belle cariche e ancora sta, devo dire che comunque gli aladino di urmet non sono tanto sanguisugi come i master con le batterie gli aladino di master si scaricano subito mentre, non so perché, devo essere sincero, non so perché ma gli aladino di master si scaricano subito mentre invece quelli di urmet sono più, forse hanno un dosaggio migliore dell'energia io non ho idea, fatto sta che questi possono stare anche tre giorni senza caricare gli aladino di master invece se non li metti a caricare almeno dopo mezza giornata cominciano a spegnersi comunque, ovviamente dico il software è sempre quello, abbiamo il nome del portatile, l'indicatore, il mio per esempio è il quarto portatile ovviamente, perché quattro portatile? ovviamente questo è anche il motivo per il quale questa base non è accesa io ho l'abitudine di utilizzare tutti i cordless su una sola base questa probabilmente la accenderò soltanto quando devo caricare il telefono o comunque quando mi può servire per qualche operazione, però in genere io come base uso quella lì e quindi sono tutti affiliati, pure quelli di master sono affiliati tutti a questa base qua che ha la luce che lampeggia adesso, un'altra cosa che devo dire comunque è che, come dicevo prima, si è vero il telefono è molto versatile sta bene nel palmo della mano, l'impugnatura è bella stretta non mi scivola dalle mani, però è anche vero appunto che io forse io sono di parte un po' però io sono abituato con la croce, cioè con il pulsante direzionale circolare quindi a volte mi capita che faccio così e mi cade tutto alla fine le icone sono anche ben fatte, il software non c'è niente da dire sul software ovviamente essendo un telefono di Urmet è compatibile al 100% con la base dei vecchi Aladino 2 di Urmet infatti per esempio, io vi faccio vedere una cosa, io ce li ho tutti affiliati come vi dicevo l'altra volta come dicevamo prima, però se io vado per esempio su questo Aladino qua no, 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 è scarico vado con questo Aladino qua che è di master come potete vedere non mostro l'indicatore perché la base lo comunica in modo diverso quella di Urmet ma se io vado per esempio su Imposta base e faccio suoneria il telefono si blocca perché il comando non è uguale oppure se io per esempio faccio, non so, copia da sim si blocca e la base non fa niente perché appunto i comandi delle basi master non sono uguali quindi quando il telefono va a impartire il comando alla base la base non lo riconosce adesso, essendo appunto anche questo di Urmet quindi utilizzando un software basato come dicevo prima è la 209 mentre invece quell'altro è la 106 ma i comandi sono sempre gli stessi infatti se io faccio copia da sim la base comincia a lampeggiare veloce perché appunto va a riconoscere il comando e se io metto la suoneria come potete vedere posso usarlo tranquillamente come se fosse la base sua comunque un gran bel telefono mi piace anche la retroilluminazione blu è un gran bel telefono mi pare che la retroilluminazione blu è tipica degli Aladino di Urmet comunque i Dust sono anche fatti bene ha un design un po' più moderno rispetto a quello che erano gli altri Aladino e certo forse sarebbe stato meglio metterci almeno nella Aladino 2000 mettere un'impostazione per cambiare lo sfondo le lingue abbiamo sempre italiano, tedesco, inglese però appunto del resto abbiamo anche una cosa nuova che è il T9 che poi ci sarà anche nei videotelefoni Prometit e anche nei cellulari di oggi il T9 che tutti odiamo si può qua selezionare o la modalità di scrittura quindi attivare il T9 o disattivarlo oppure la lingua il vocabolario che devo utilizzare è il T9 adesso si ok le nuove icone sono belle però gli avrei messo anche come dicevo avrei messo anche altri sfondi e comunque non ti dico i giochi perché vabbè i giochi ormai nell'Aladino 2 non ci sono mai stati sia nel 2 che nel 2 new poi torneranno a grande richiesta con lo slim e poi resteranno anche nel micro però dico non so i servizi telecomitari sono sempre uguali ultima chiamata ultime chiamate segreteria ricevo 1254 loghi e studeria trasferimento di chiamata avviso di chiamata ora esatta servizio sveglia chiaro telechiamate urgenti servizio 5 disabilitazione chi è nascondi numero si appunto come dicevo prima sono molte cose proprio le prende net dal Aladino 2 di Urmet quello vecchietto si appunto spariscono anche però le icone non c'è la faccina che ride per esempio oppure non ci sono le icone del telefono con la cornetta aperta per esempio alzata oppure con la cornetta abbassata per indicare la fine della chiamata e magari ecco l'unica icona che è questa bel telefono mi piace finalmente anche la cosa che la barra dell'orologio prende tutto lo schermo e non metà come faceva nell'altra Aladino ma tanto poi tornerà a metà con lo slim quindi comunque i colori sono due o questo qua grigio e nero come ce l'ho io oppure come ce l'ha Filippo Mariano tutto nero e niente ragazzi io direi a parte questo bellissimo lettore sim card direi che questo video possa concludersi qua grazie per la visione e alla prossima